Chi meglio di Marco Mici Vici che si trova qui accanto a me può presentare in qualche modo questa Final Four di Montecatini perché Marco affronterà Milano con l'amatori Pescara, la sua ex squadra, però è stato anche giocatore sia del Sansevero che dell'Orzi Nuovi. Partiamo dal Milano, come l'ha stato preparando? Una squadra di primissimo livello di questa categoria, hanno fatto la squadra loro dichiarando di voler vincere il campionato, quindi hanno preso i top player della Serie B, sono una società serissima che negli ultimi 5-6 anni ha fatto un miglioramento ogni anno ed è arrivata a queste Final Four meritatamente. Si tratta di una squadra con tantissima esperienza, perché se non sbaglio tutti i senior hanno più di 30 anni. C'è il Totem Paleari che ne ha 38. Si, si, sì, Paleari che è la bandiera dell'Urania. Di grande esperienza, dicevo, i giocatori che sono abituati a queste partite, perché se penso a Scanzi, Simoncelli, Santo Lamazza, Piunti hanno giocato questo tipo di partite, quindi sarà sicuramente una battaglia. Loro hanno più esperienza, però io credo che noi, dalla nostra parte, sia la freschezza che abbiamo avuto più giorni per recuperare. Siamo un po' più giovani e loro hanno fatto gara 5 quali supplementari. Quindi magari arriviamo un po' più freschi noi. A proposito di questo, Micevic, che cosa vuol dire? Cosa significa il fatto che l'Amatori, tra le quattro squadre arrivate alla Final Four di Montecatini, è l'unica che non ha giocato la quinta? Voi vi siete qualificati prima? Questo vuol dire una cosa sola, che siamo arrivati ai play-off comunque in fondo, ai play-off in condizioni fisiche ottimali. Questo vuol dire perché Salerno, anche Salerno, era una squadra di prima categoria, quindi l'unica cosa che mi dice questo dettaglio è che siamo riusciti magari, avendo anche a fine girone di ritorno una flessione, siamo riusciti poi a ricompattarci, a ritrovare la freschezza fisica e mentale per arrivare in fondo magari meglio delle altre. Ed in effetti è stato un crescendo per voi come squadra questa semifinale, poi anche la finale, e soprattutto anche per te dal punto di vista personale credo che ti sia integrato ancora meglio, no? Sì, l'ho detto anche prima della finale che era una bella occasione questa serie per me, che ho faticato a trovare continuità durante l'anno, quindi aver giocato discretamente questa finale mi dà fiducia anche per questa ultima o ultime due partite, quindi penso che è una cosa che vale anche per tutti, credo, quindi arriviamo carichissimi a Montecatini. Grazie a tutti.